è importante l'atteggiamento interiore rispetto al proprio male il non acquisire il cliché del malato bensì considerarsi un essere sano che sta operando alla riaffermazione della propria normale salute che è anzitutto salute interiore a ciascuno il proprio male insegna il tipo di forza morale che gli fa difetto ed è perciò il germe della guarigione in sostanza dietro il male che si assume o si soffre si dovrebbe scorgere l'azione restauratrice dell'io l'autoconoscenza è un processo di riattivazione di forze sopite interiori mediante l'intelletto cosciente intelletto che cessa di essere strumento della natura psicofisiologica per operare come organo dell'io l'io ha bisogno della malattia per operare nelle profondità della struttura fisica perciò l'io stesso è il guaritore le medicine allopatiche per il corpo fisico omeopatiche per il corpo eterico la funzione edificatrice del corpo eterico le forze direttrici del corpo astrale sono lo strumento terapeutico dell'io che sa dove vuole giungere mediante esse elevarsi al punto di vista dell'io è l'autentica arte diagnostica e terapeutica i rimedi le forze vitali le forze dell'anima funzionano perché l'io ha deciso di guarire naturalmente alludiamo all'io reale non all'io riflesso se l'io reale per il suo disegno trascendente ha bisogno della malattia e del suo aggravamento allora i rimedi non funzionano le forze guaritrici cessano di avere presa sulla corporeta fisica pur continuando ad operare intensamente stimolate dal male ma in altre zone ai fini di un diverso tipo di edificazione il disegno trascendente dell'io può essere conosciuto certo non dall'intelletto ordinario ma dall'intelletto capace di congiungersi con la propria sorgente sovrasensibile dove sia conosciuto il disegno trascendente tramite la malattia l'intelletto conoscente stesso diviene organo di guarigione in quanto organo dell'io nell'anima e nel corpo va ricordato che l'intelletto deve superare in sé il vincolo alla psiche soggettiva per poter operare secondo la sua virtù il pensiero è l'unica forza immediata e al tempo stesso extrasoggettiva della coscienza ma esige venire separato dalla psiche soggettiva perché perché possa esprimere come pensiero puro la propria forza l'io opera comunque nell'anima e nel corpo ma la sua azione diviene edificante se il pensiero puro ovvero quell'acquisito con la pratica della concentrazione e della meditazione individuale nonché degli esercizi dell'azione pura e del volere puro dati da Rudolf Steiner quindi se il pensiero puro offre ad esso la propria mediazione allora l'io può fare a meno di procedere unicamente mediante direzioni extracoscienti cioè può fare a meno di procedere esclusivamente ed obbligatoriamente attraverso il karma il karma opera nell'uomo mediante le forze istintive suscitando la serie degli atti e dei fatti attraverso i quali l'uomo inconsapevolmente si dirige irresistibilmente alle vicende del proprio esistere dolorose o gioiose le radicali forze istintive costituiscono il veicolo mediante il quale si estrinseca il passato dell'uomo karma ma all'origine di esse vi è l'io che opera bensì mediante il karma ma è anche indipendente da esso l'io affiora come attività diretta dell'anima laddove l'anima diviene cosciente dell'unica attività interiore che in essa abbia la possibilità di operare non condizionata dal passato e tale attività è il pensiero in tal caso l'io mentre è l'estrinsecatore del karma simultaneamente è il portatore e il suscitatore della libertà anche quando nel corso di una malattia appaia non la guarigione bensì la crisi generale del corpo e perciò la morte l'azione interiore volta alla guarigione ha comunque la sua funzione positiva perché diviene della vittoria futura dell'anima sulla corporeità la virtù guaritrice va sollecitata in ogni modo opererà secondo il disegno trascendente accennato ma apparimenti può costituire un elemento di variazione capace di risultare positivo oltre gli schemi clinicamente previsti comunque è terapicamente saggio operare come se la guarigione fosse il senso finale della malattia occorre tentare di superare la morte anche quando questa appare inevitabile l'azione terapeutica volta alla vittoria sul male non deve minimamente essere impedita dalla gravità di questo il miracolo è sempre possibile e d'altra parte il malato stesso ad un certo momento quando gli sia metafisicamente necessario trova egli inconsciamente concorde con il suo io superiore il modo di uscire dalla vita del corpo la virtù guaritrice muove dalla persuasione profonda che la vita supera la vita supera la morte l'impulso guaritivo deve entrare in azione anche se si profila l'evento della morte perché opererà ugualmente come germe di una potenza di amore che un giorno sconfiggerà la morte l'azione guaritrice ha il compito di instaurare la connessione tra il divenire della vita e l'essere trascendente dello spirito ha il compito di congiungere l'evento della sofferenza anche con l'accettazione di essa e lo scuro tema della dissoluzione corporea con il mistero originario della vita cioè con la forza della resurrezione la vera vita non conosce la morte non può subire la morte perché oltre la maia dei sensi è la forma inesauribile dello spirito che l'uomo può scoprire in sé se intuisce il mistero della resurrezione il pensiero della guarigione è la divina tessitura che ha il compito di superare l'illusoria ineluttabilità del vincolo alla natura corporea oltre la natura corporea e dominandola segretamente vive ciò che è veramente vivente sin dalle origini un'essenza immortale vive nel corporeo destinata a fare di questo la propria veste immortale di questo la propria veste